Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence TV per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa di lavori si registrano 6 km di coda tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta in direzione Bologna. Passiamo alla 11 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In Fipili invece di nuovo a causa di lavori 3 km di coda tra La Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno, 2 km di coda in direzione Firenze. Sempre in Fipili ma a causa del traffico intenso code in uscita La Strassigna provenendo da Firenze e code tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. Cantieri di Firenze per riparazione urgente chiusa via del Ferrone nel tratto tra via di Soffiano e via dei Morelli. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!